Violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Con queste accuse sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri a Nizza Monferrato due giovani macedoni. Nico Mladeoschi, 29 anni, abitante a Canelli ed il connazionale Coetaneo Goran Zafirov, abitante a Cassinasco, nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Asti, hanno prelevato con la forza due sorelle nigeriane di 20 e 21 anni, costringendole a salire sull'auto, proprietà del canellese. Costrette ad entrare nell'alloggio del Mladeoschi dopo aver consumato cocaina, minacciandole con un coltellaccio, hanno abusato delle due ragazze. Verso sera i due malviventi, dopo essersi impadroniti dei telefonini delle vittime di 600 euro che erano nei portafogli, le hanno costrette a salire in auto per dirigersi verso Nizza Monferrato. Ed è stato alla periferia della città che le due ragazze sono riuscite, urlando dai finestrini dell'auto, ad attirare l'attenzione di un'autopattuglia dei carabinieri. I militari dell'arma, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due, nonostante abbiano abbandonato l'auto, cercando di dirigersi nei campi. Nella casa del Macedone, abitante a Canelli, i carabinieri hanno recuperato i telefonini e i portafogli delle nigeriane, più alcune dosi di cocaina. E qui nell'Astigiano la scorsa settimana è stata la più funesta dell'anno, soprattutto per i numerosi incidenti mortali sulle strade, ma anche per infortuni sul lavoro e disgrazie varie. L'ultima vittima nella tarda serata di ieri, una romena residente a Villanova d'Asti, Cristea Petruta, 23 anni, prossima a diventare madre, ha trovato la morte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada poco dopo il casello di Villanova. Il bambino che portava in grembo era al settimo mese e deceduto nonostante il pronto intervento del 118 e dell'elicottero del CTO di Torino. Il padre, Florian Mocanu, 24 anni, era a fianco della moglie ed è uscito dall'incidente illeso. Sempre ieri nel pomeriggio Zoran Eftimov, un giovane macedone di 28 anni che abitava a Cassinasco, è annegato a Cartosio in provincia di Alessandria in un laghetto vicino al torrente Erro. Venerdì notte poi ha invece perso la vita sulla provinciale Gallareto-Villafranca il motociclista Maurizio Francon di 38 anni che abitava a Berzano di San Pietro. La tragedia più eclatante si è conclusa sabato con i funerali di Enrico, 11 anni, ed Ilaria a Vespa, 9 anni, figli del capitano del Paglio di Asti, morti sull'auto, guidata dalla madre, rimasta inlesa mentre al marito è stato amputato un braccio. Sempre la scorsa settimana a Via Rigi l'auto guidata da un ragazzo di 19 anni, abitante in paese, ha travolto ed ucciso Daniela Medico, 51 anni, e Clara Battistella, 53 anni, mentre stavano passeggiando sulla strada poco distante da casa. Infine, per gli infortuni sul lavoro a Costigliole, si è avuto l'ennesimo ribaltamento del trattore che ha ucciso Antonio Tarasco, 82 anni, agricoltore. E sabato scorso, per l'intera giornata qui ad Asti, sotto i portici anfossi di Piazza Alfieri, la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha iniziato una campagna di informazioni e di ascolto sul tema dell'ospice. In pratica, la Lilt ha cominciato una raccolta di sottoscrizioni per attivare anche nell'astigiano delle strutture adatte ad accogliere gli ammalati in fase terminale. Infatti, gli hospice previsti dalle normative regionali, dopo l'attivazione della prima struttura Lanzo già dieci anni fa, nell'astigiano, in pratica non esistono. Mentre nella vicina Casale, ad Alessandria ed in altre nuove località piemontesi, i cittadini possono usufruire di questo importante servizio. Numerose famiglie sono in difficoltà, oltre al dramma di dover perdere un loro congiunto, infatti in molti casi si aggiunge l'impossibilità di poter garantire ai loro cari un fine vita dignitoso e meno difficoltoso possibile. Gli hospice vogliono essere appunto luoghi ospitali, coniugando i principali servizi di un ospedale in chiave moderna di quelli che un tempo furono gli hospizi. Non a caso, allo stand della Lilt, c'è stata una forte affluenza a dimostrazione dell'interesse che l'iniziativa sta registrandoli. Le sottoscrizioni saranno riproposte sempre sotto i portici e anfossi nelle mattinate di mercoledì e sabato prossimi. Chiudiamo velocemente con la disavventura sabato sera per i passeggeri del treno Genova-Torino, fermo per oltre un'ora dalle 20 alle 21, a circa 300 metri dalla stazione di Villafranca d'Asti. Purtroppo la massicciata ferroviaria molto alta non ha consentito ai passeggeri di scendere dal convoglio. Con il guasto al locomotore si è bloccata anche l'aria condizionata e si sono vissuti momenti di tensione, fino a quando la situazione di emergenza è stata affrontata dalla Direzione della Protezione Civile, che ha predisposto l'invio sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia ferroviaria per la distribuzione di acqua minerale e generi di conforto. E con questo anche per oggi da Asti è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.